Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una nuova puntata di The Banding of Isaac Afterbirth Plus Io sono Ser, benvenuti nel mio canale Faremo una daily con Blue Baby, quindi vuol dire morte istantanea Vuoi darci molta protezione in fretta? Ma io me ne fotto e prendo danno lo stesso Me ne fotto Ok, quindi per forza dovremmo fare questa stanza merdosissima Beh, ho visto di peggio, devo dire la verità Allora Andiamo giù? Beh, non era il caso Visciata, in pieno Allora, non vedo tinted Nope Merda Bomba ci può servire contro il boss? Spero Perché altrimenti Ma non particolarmente Più sarebbe riuscire a non farlo dividere Beh, ok Adesso ti puoi anche dividere se vuoi Oggetto Ridiculous Ok Si scende Allora, abbiamo bisogno di cuori Perché altrimenti Non saprò come fare Strano, questo è un posto da Tilted Rock E invece no Non saprò come fare Oh, Smorrock Ho visto Smorrock Un colpo solo Ok Quanto tempo ho perso dietro a questa stanza Bomba Dacci una bomba Non c'è data Non c'è data una bomba Non posso fare altro Che costatarlo Neanche tu c'è data una bomba Ok Quindi la stanza di oggetti D'altra parte Ci fa tutto Molto piacere Andiamo per la stanza Gli oggetti Mamma mia La navigazione più complessa Dell'emisfero nord Vediamo qua Che c'è di bici Nothing special Who would say C'era una batteria No E la danno Sa che aspetti A meno che questa Non è 24 hour Come non ho preso danno Vediamo che cosa ci riserva Il patto col diavolo Calcolando che non posso prenderlo Oltre di tutto A meno che Sua maestà cacca Non ci espleti No Non ci tiri fuori un 500 Andiamo ancora L'esperimento Trittamente Ha fatto il suono E adesso Andrò a cambiare Quell'oggetto In particolare Facendo una navigazione Sempre più complessa Perdendo tutti i minuti Che mi servono Per fare la boss rush E quindi Arrivando Over 1000 Anche over 1000 e 5 Forse Ma forse Ne valsa la pena Comunque 7 di danno Con un tier di 6 Ancora non basta Prossimo piano Sì Basta Però non so Quanto in là Potremmo andare Merda L'overz Utilissimo L'overz è utilissimo Ok la partita Volge al bello No ma abbracciamoli i nemici Perché sono tristi e solitari Monetina a me No No Non so se vale la pena Ricambiarlo un'altra volta Forse Forse Post boss Vediamo Secondo me Non mancano più di due stanze Al boss Cioè questa è un'altra In sostanza E' sempre buono Dobbiamo saperlo E' sempre buono Ok si Vale la pena provare A cambiarla di nuovo Spara a una velocità Fotonica Non vale la pena Prendere un danno Per bitrei Albero Che è un oggetto Che proprio Non mi piace Abbiamo avuto Un piccolo aumento Di danno Ogni piano E siamo a 8 Forse sopra c'era La stanza Non super Ma segreta E basta Oh cacca 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 Ma le bombe Le giocate E' sempre E' sempre via si può fare si può fare dai che è l'ultimo ok quella la lasciamo lì se ricevo più bombe lo farò è interessante ok perfetto lo faremo non ne vale la pena non ci piace non credo sia molto utile ma vabbè non ci piace sacra d'arte è una vita che ti aspettavo scusa se lancio delle bombe a mano adesso a ricerca non ci piace Interessante Molto interessante Due centesimi Due centesimi Due centesimi Due centesimi Due centesimi Niente due centesimi Niente due centesimi non posso fare altro che constatarlo No, aspetta un attimo Stiamo andando giù di qua apri Niente chiave Finirà che dovrò prendere la chiave Non toccando giù di qua Chiave Una volta che voglio la chiave viene la bomba Una non parti Mi serve veramente andarci? Ma anche no Per esempio E vice un mal poter tenere per piano dopo Comunque Tipo questo Non posso aprire le entrambe Quindi direi di no Se si va bene uguale Eh ho capito Cioè figa Un bucchia Che c'è una gangbang De De robe Grazie Grazie Elo Abbiamo un party 6 Mi amico Oltretutto Non è abbastanza chiave Panna dash Vedo che comincia ad intendere Eh sei un figlio della merda però Non so Non so mica se la batto Oltretutto si beh lo faccio un'altra volta però possiamo andare dove scipare quale rodi mi garantisce ah il wafer cazzo sarebbe utile mi si scacca devo vedere se c'è qualcuno che può sparare robe ma tu in teoria mori facile ecco questo è un problema chi è l'altro? le freie questo sembra difficile ma in realtà è un pip non nel senso che è scarso è che è proprio pip così che si chiama bloat questo spara dov'è? ciao mask ma perché va così? non spara non so chi è l'altro va bene ci sto siamo riusciti nonostante tutto a fare la boss rush ma questo non vuol dire che riusciremo a fare rush non ho detto neanche che ci arriviamo in realtà anche se con sacred art non arrivarci è un casino la bomba ce l'ho eh quindi se vediamo tinted ditemelo che tanto sicuramente vi ascolto ok che si eh senza segretà dovevo stare ah si ok ok sotto qua eh 30 non ci siamo arrivati comunque non volevo lì l'ho detto non vedo tinted non vedo tinted non vedo tinted ma se è già scoperta non te la fa più non te la segnala più non so persi non so che è qua ormai no non era difficile intuirlo che dici? questo è hidden salcazzo quello ci dà cuori blu se facciamo così questo è trascendenza non so che prendo questo prendo il volo il mio unico grande no niente scherzavo allora adesso già volare e no non canterò la canzone di Robazzi ve lo dico 4 minuti per battere il cuore sempre ammesso che azzecchiamo la strada mazzo ho visto la tinted qua c'è l'altra quindi non è distantissimo dal oh cazzo è vero che si io sono spettrale e lacrime no però è vero ma porco cazzo non è neanche qua dimmi che sei di qua dimmi che sei di qua dimmi che sei di qua bravissimo ce la faccio in 3 minuti e batte il cuore ci si prova direi di sì no? 6 chiavi non mi basta per tutto perché me ne servono 7 quindi prima che prima cosa si va allo shop quando abbaia vuol dire che esatto vuol dire questo se mi dai una chiave sono contento se mi dai soldi un po' meno devo dire la verità devo vedere tutto e poi ponderare da qua in poi tanto la velocità non mi serve più ah steam cell mi è abbastanza inutile shielded tear eh e questo non posso aprire è che questi due li vorrei entrambi però secondo me shielded tear è quello che mi può salvare il culo questi in teoria cioè a parte speedball scusa un attimo io c'ho già un'altra sì una sola purtroppo ho rerollato l'altra quindi non posso diventare quel robo strano quindi io qua in realtà potrei fare così prendermi un passivo qua questo che cos'è? assolutamente niente e questo è Dermit non mi è convinto non mi è convinto ma non è con molta scelta non so se è stata una scelta proprio di quelle fantastiche forse era meglio prendere penetrative tiro è vero che queste cose shieldano praticamente tutto perché sono gigante e solito ormai una volta a rec mio figlio deve per forza svegliarsi altrimenti non è una mia rec chissà se prima o poi avrà l'autonomia di dormire tutta la notte sembra bellissima l'idea ma chissà se si accadrà mai cazzo con 40 di danno siamo messi così male 40 di danno e 8 di tiro di lei comunque non è che non è che eh però se non mi scudano poi è un casino concentrazione massima ci si metterà un po' non nego chi cazzo che spara ok almeno possiamo intercettarle il agra poi potresti morire per fare un favore tipo all'umanità grazie potrei quasi sentirmene andare da lì un haha scherzavo va bene che ci racconti? a 40 credo basti per fare sto livello decisamente terzo quello più facile va bene ho sentito onesto ecco le chiavi per esempio mi servono cazzo non darmi le bombe dammi le chiavi ah no beh aspetta devo andare in darkroom no non mi servono le chiavi c'è no più di 40 HP più di 80 HP hanno 109 HP più dei boss del primo piano quasi più dei boss del primo piano ma porco il cazzo guarda quanto tempo sto perdendo per sto coglione ok mai e poi mai l'avrei detto giuro basta con questi demon un isaac non mi servono le chiavi a po' ah, finiva qui? cacchio, era come se ci fosse dell'emba top 500, yeah, yeah yeah, yeah yeah, yeah ok abbiamo finito grande, superato anche Ace yeah e niente ragazzi ci si becca alla prossima e ciao a tutti